Buongiorno a tutti! Col cuore pieno di gioia, alcuni di voi mi conoscono da prima di essere parlamentare della Repubblica, semplicemente per aver reso nota la mia storia personale da malato di sclerosi multipla, scaricabile gratuitamente nel mio sito. Ora vorrei completare il percorso del Vinciamo Noi, titolo della mia storia, presentandovi questa proposta di legge per far sì che la terapia chelante venga resa ospedaliera, con relativo ticket o gratuito nel caso di persone soggette ad esenzione. Penso sia una proposta di legge semplice, sappiatemi dire, aspetto i vostri commenti e contributi, grazie mille a tutti, Vinciamo Noi, quello originale! Ciao!